Prima partita di campionato, arriva la Iesina al Polisportivo di Cildanova, Iaconi ha tenuto questa mattina una conferenza stampa. Mister, come sarà la Iesina e come controbatterà la Civitanovese? Quando comincia il campionato è chiaro che ci sono sempre delle situazioni che non si conoscono, sia da parte avversaria ma anche da parte nostra. Questa è una squadra costruita interamente di Besnuovo e quindi dobbiamo conoscere i giocatori per quello che riusciranno a fare ma anche sotto l'aspetto caratteriale. L'inizio è sempre insidioso, farlo in casa forse ancora di più visto che si è chiamato a vincere. Se vittoria dovrà essere domani noi dovremo avere molta pazienza perché la Iesina è una squadra ostica, scorbutica, formata da giocatori di esperienza che hanno questa categoria nel sangue e quindi per aver ragione dobbiamo avere molta pazienza e non giocare in maniera scriteriata.